Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per quello che riguarda il lavoro e l'economia per i primi sei mesi del 2022. Come dico sempre, le letture sono fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi invito ad andare a ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. La lettura sarà divisa in due parti. La prima parte riguarderà quello che è l'analisi energetica in blocco del periodo, mentre la seconda parte vedrà che cosa succede mese per mese. Mostrami pesci, grazie, abbiamo la pienezza, l'esistenza, e sperimentare. La pienezza è un asso di denari, al contrario. L'esistenza è il mago, al contrario, e poi abbiamo uno sperimentare che è un tradibastone. Allora, sento che c'è un qualche tipo di inizio che si dovrebbe dare, ma per certi versi non si riesce o non si vuole dare. È come se si avessi bisogno di quello che è un cambiamento. La pienezza è un asso di denari, quindi normalmente parla di quello che è l'arrivo di un qualche tipo di denaro, un qualche tipo di... potrebbe essere un nuovo progetto, un nuovo contratto, ma in questo caso è al contrario. Quindi sento che è una cosa che sta tardando ad arrivare. È un qualche tipo di percorso nuovo che potenzialmente potrebbe svilupparsi, ma che in questo momento, per qualche ragione, in questi mesi, diciamo, non si riuscirà a portare avanti come si vuole o come si sfera. Ed è un po' la stessa cosa che mi dice anche il mago, no? È un po' come se non ci fosse la volontà, se vogliamo, la costanza di cercare, come vi posso dire, di focalizzarvi sull'obiettivo, ok? Per certi versi sento che qualcuno non si sente in grado di plasmare la realtà a proprio gusto e piacimento, se vogliamo. È come se non sapesse quali sono gli strumenti, quali sono le modalità migliori per poterlo fare. Quello che si vedo con questa carta dello sperimentare è che siete comunque in una fase dove sperimenterete molto. E questo sperimentare può comprendere quello che è nuovi sentieri di vita, letteralmente, nuove collaborazioni per quello che riguarda magari dei progetti, degli hobby, degli sport, sento. Quindi, ripeto, è un, come posso dirvi, un focus che avrete per il 2022, insomma, almeno per i primi sei mesi. Quello di, se vogliamo, andare un pochettino a tentoni e vedere che cosa sarebbe meglio portare avanti. Wow! Allora, poi abbiamo condivisione. Seguire il flusso. Una nuova visione al contrario. La fiducia al contrario. Tiriamo anche l'ultima. Una sola, per piacere, grazie. Dunque, guarigione. Wow! Condivisione. È una regina di bastoni. Quindi, quello che sento è che o potrebbe essere riferito ad una figura femminile, magari nel vostro intorno, magari è un collaboratore, un cliente, un collega, quello che vi pare. Sento che comunque c'è questo tipo di persona femminile con la quale si fa un po' fatica, se vogliamo, a integrare. Si fa fatica, diciamo, a condividere. Ecco. Potrebbe essere una persona che per certi versi, come vi posso dire, gioca, sa giocare bene con quello che è la parola, il discorso. Ve la mette un po' giù come piace a lei, se vogliamo, no? Quindi ha questa tendenza, forse un pochettino a manipolare. Anche la carta del mago, al contrario, un po' mi fa pensare a quella roba lì. Seguire il flusso. Quindi, in questo caso, le carte dicono che potreste fare qualche cosa più attivamente, se vogliamo, ok? Nel senso che vi state un po' lasciando andare tipo barche in balia del vento, no? È un po' come se semplicemente reagiste a quello che vi sbatte contro, senza dare una reale direzione a dove volete andare voi. Cioè, io sto andando di qua, se c'è una barca che viene di qui, giro, ma continuo ad andare di lì. Non è che ho puntato l'obiettivo qui e che quindi poi ritorno sulla traietto. Capite cosa intendo? Quindi, sento che anche un po'... avete anche la carta dell'appeso, al contrario. Per certi versi si sbloccano delle cose, ok? Quindi può essere... perché poi giustamente finiamo con fiducia e guarigione. Quindi c'è un qualche tipo di nuova visione, come dice giustamente la carta, un qualche tipo di elaborazione a livello mentale che avete fatto, magari anche a livello personale, che vi dà la possibilità, o comunque vi darà la possibilità, di vedere le cose sotto un altro punto di vista. Quello che sento è che sì, è come se ci fosse una sfiducia, ok? E potrebbe essere proprio riferita a questa persona o a questa energia, comunque è fortemente femminile. O magari è una sfiducia che voi avete investito in voi stessi. Però comunque guardate, abbiamo la carta della guarigione un'ora di coppe alla fine della stesa, quindi sento che comunque un qualche tipo di riallineamento da parte vostra ci sarà. Potrebbe essere quello che è un... un prendere posizione, sento, per qualcuno, ok? Nel caso fosse senza un lavoro... ragazzi mi dispiace, ma non sento... cioè avete due assi che al contrario questa forte influenza può essere che ci sia qualcuno che vi impedisca questo nuovo percorso, che sia un nuovo lavoro, un nuovo contratto, una nuova azienda, però sento che quel nuovo che voi vorreste e che qua mi parla con questi due begli assi, in realtà non si concretizza, almeno per i primi sei mesi del 2022. Anche se poi comunque con questo appeso al contrario sento che c'è uno sblocco, ok? Proprio un qualche cosa che io vedo a livello interiore vostro. Va bene, andiamo a vedere mese per mese, andiamo a capire un attimino meglio come si sviluppano le energie. Per i nostri amici dei pesci. Ok, allora qua abbiamo gennaio e abbiamo un... oh sì, un re di coppa al contrario, qui va anche un re di coppe, abbiamo la temperanza, a febbraio, un dieci di spade al contrario a marzo, abbiamo il diavolo al contrario ad aprile, un cinque di bastoni al contrario, queste sono uscite... un nuove di pentacoli al contrario e la giustizia al contrario. Dunque, il re di coppe al contrario, quello che sento io è che... è come se ci fosse un... una sorta di non connessione con la vostra verità profonda. Qui è vero, ce l'avete girato al dritto e diciamo che comunque il consiglio che proprio danno le carte è quello. Cercate di riallinearvi con quello che è la vostra emotività, la vostra maturità emotiva. Ma sento che a gennaio è proprio quello che manca. Quindi probabilmente ci sarà bisogno di lavorare, se vogliamo, proprio su questo tipo di aspetto. E io sento che avete comunque la temperanza. La temperanza è una carta che mi parla di guarigione, di alzare le vibrazioni, di un ritrovato equilibrio. Quindi io sento che a febbraio, insomma, andrà un pochettino meglio. Il 10 di spade a marzo potrebbe parlare di quello che è il voler chiudere un qualche tipo di ciclo, il voler lasciarsi indietro un qualche tipo di sofferenza. Ma fate attenzione perché ad aprile c'è un diavolo al contrario. Quindi io qui sento che c'è un qualche tipo... e anche qui avevamo il mago al contrario. Potrebbe essere... Allora, per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che ci si sleghi, ok, da magari un'azienda, da un collaboratore. Può essere che ci sia appunto questa sorta di divisione, no? Che comunque, voglio dire, poi così male non va questo separare. Ora, è chiaro che, diciamo, arrivati poi a giugno, non c'è proprio quello che è un equilibrio a livello proprio monetario, finanziario. Potrebbe essere che, insomma, questo tipo di decisione di allontanarvi da questo collaboratore, azienda, piuttosto che situazione, possa creare una sorta di instabilità, ok? Andiamo a vedere nello specifico di che cosa parlano queste carte. Andiamo a vedere. Allora, questo 10 di coppe al contrario. Di che cosa si tratta? Ruota della fortuna al contrario e asso di spada. Quindi, ragazzi, davvero c'è un qualche tipo di cambiamento che qui sento a livello mentale. Può essere che vi venga detto qualche cosa, vi venga fatta una comunicazione. Sento che magari è anche solo una questione, ecco, perché giustamente non siete in connessione con la vostra parte emotiva perché vi sento tanto nella vostra parte mentale. Un po' come se steste facendo ordine tra quelli che sono i pensieri, i voleri, i doveri, insomma. La ruota della fortuna può fare riferimento anche a qualche tipo di ciclo karmico che magari state affrontando in questo momento, ok? Andiamo a vedere la temperanza a febbraio. La temperanza è spiegata dalla giustizia, ce l'avevate anche qui, da un 5 di spade al contrario e da un 9 di spade al contrario. Sì, allora, queste sono due carte che mi parlano di equilibrio, entrambe. Però comunque quello che sento è che avete fatto un lavoro, state facendo un lavoro per quello che riguarda i vostri pensieri, per quello che riguarda tutte le cose che vi attanagliano la mente, tutte le cose che vi danno ansia, preoccupazioni. E' un po' come se riusciste, grazie anche a questo asso di spade, a fare chiarezza mentale, a mettere i giusti pesi sulla bilancia, a capire che cosa è giusto per voi, che cosa non è giusto per voi, che cosa vi serve e che cosa no. E l'asso di spade anche serve un po' a quello, a tagliare quello che non serve più. Andiamo a vedere il 10 di spade al contrario, un'altra volta il diavolo, ragazzi. Il giudizio è la torre! Wow! Allora, qui io sento che qualcuno non sta seguendo la propria vocazione. C'è questo 10 di spade al contrario, ok? Mi parla di quello che è un dolore che ancora non è stato superato. Abbiamo il diavolo, il diavolo mi parla di controllo di un qualche tipo di schiavitù volontaria. Poi abbiamo il giudizio, il giudizio anche qui come la ruota e la fortuna, anche lui mi parla di karma, mi parla di quello che è una chiamata divina, mi parla di quello che potrebbe essere una chiamata reale a livello telefonico di un qualche cosa che arriva dal passato. E poi abbiamo la torre, la torre è la caduta dell'ego. Quindi io qui sento che o per qualcuno si tratta di rivedere quelli che sono i sogni del passato o si tratta di rivedere quello che è questa energia con questo diavolo, ok? Perché qui comunque ce l'abbiamo rovesciato. Quindi diciamo che tra marzo e aprile un po' vanno a cambiare queste... Andiamo a vedere. Il diavolo è rovesciato. Tra marzo ed aprile sento che queste energie comunque potrebbero andare a cambiare, ok? Il giudizio è un po' come se il diavolo e il giudizio fossero due carte contrapposte secondo me. È come se ci fosse un qualche tipo di schiavitù, un qualche tipo di blocco, di paura, di sofferenza, di rabbia, ok? Che impedisce per certi versi, è come se creasse un attaccamento a questo dieci di spalle, a questo tipo di dolore che non ci si lascia alle spalle. Il fatto che poi ci sia il giudizio e che quindi ci sia quello che è una chiamata divina, quest'illuminazione anche se vogliamo, è un po' come se mi facesse... Se facesse crollare l'ego. Cioè qui vi rendete conto di determinate situazioni che si sono create intorno a questo diavolo che comunque è il caso di far crollare, di buttare giù, in caso di mettere in dubbio insomma. È come se questa illuminazione vi facesse mettere in dubbio un po' quelle che sono le vostre certezze. Andiamo a vedere di là perché ce l'ho capovolto. Allora un 4 di coppe, 5 di coppe, 8 di denari e il fante di spade, scusate. Allora io sento che qui questo 10 di spade al contrario potrebbe proprio essere riferito a questo 4 di coppe e 5 di coppe. Io qui sento che per qualcuno potrebbe essere il fatto che ci abbiano rifiutato un lavoro, un progetto, una promozione, ma sento più che fa riferimento con un qualche tipo di appalto piuttosto che diciamo gara ecco, dove questo tipo di progetto non è stato preso in considerazione, non è stato proprio neanche valutato e c'è questo sentimento insomma di pentimento, la perdita dell'opportunità ok, ma poi abbiamo anche un 8 di pentacoli e un fante di spade. Quello che sento io qui è che probabilmente c'è ancora da studiare in questo senso per far sì che poi questo progetto venga preso in considerazione. Però sentite un attimo, io sento che per quanto voi lavoriate a questo progetto finché lo presentate a questa persona è come se non venisse tanto preso in considerazione, ma perché messo così come messo non incontra il gusto della persona. Se vuoi magari iniziate a cambiare qualche dettaglio potrebbe essere che lavori diciamo in modo diverso. Allora andiamo a vedere il 5 di bastoni al contrario, la temperanza un'altra volta è il mondo. Entrambe oggi siamo abbonati ai contrari. Entrambe al contrario, la temperanza ce l'avevate già qui, il mondo è una carta che comunque parla anche questa di compimento, parla di conclusione di un ciclo, apertura di un ciclo nuovo. Sento che è inutile verso maggio, come posso dirvi, battervi no è brutto, non ha molto senso continuare diciamo a sprecare le energie nei confronti dei vostri concorrenti, ok? Perché sento che c'è uno spreco di energie, sento che questo vi porta in disequilibrio, sento che questo comunque non porta a niente. Cioè semplicemente vi state esaurendo a livello di energie, ok? Per certi versi il fatto che il 5 di bastoni sia al contrario può farmi pensare al fatto che non abbiate rivali, ma sento che per un gruppettino piccolo, perché se pensiamo alle carte che qui avevo prima, dove il progetto comunque sento che non viene tanto preso in considerazione, però è, guardate, è una roba un po' orchestrata, sento. Bene, andiamo a vedere, andiamo a vedere il 9 di Pentacoli al contrario, la stella è il Cavaliere di Coppe Io sento che qui qualcuno sta aspettando un qualche tipo di offerta, c'è la stella, mi parla del sogno, mi parla anche di guarigione, ma il Cavaliere di Coppe è qualcuno che porta un'offerta, porta una comunicazione o qualche cosa comunque, diciamo, per lo stile, ok? In questo caso è come se ancora si stesse aspettando, ve la dico così, il Principe Azzurro, nel senso che si sta ancora aspettando che arrivi quella roba lì che tanto state sognando, insomma, ok? Avete voglia di essere indipendenti, avete voglia di sfondare, io sento, con quello che è il vostro progetto. Andiamo a vedere la giustizia al contrario, per piacere, grazie. La sacerdotessa al contrario Wow, no, queste sono decisamente troppe Con una carta, grazie Il matto Sì, c'è un forte sentimento di sfiducia, sento che comunque in questi sei mesi, allora, non vi buttate giù se non dovessero prendere in considerazione un vostro progetto, una vostra proposta, un vostro suggerimento, ok? Perché sento che fondamentalmente potrebbe migliorare questo progetto, ed è per quello che ancora non viene preso in considerazione. Fate un po' attenzione a quello che sono le, come posso dirvi, le energie circostanti, le energie intorno a voi tra marzo e maggio. Perché avete due volte il diavolo, avete una torre, qualche cosa qui bolle in pentola, sento. Se foste disoccupati, c'è la possibilità di iniziare, ma sento che è un po' come se dovesse andare fuori dalla vostra zona di comfort, ok? Perché in questo momento, ripeto, non siete tanto connessi con quello che è il vostro lato emotivo quello che vorreste fare voi nella vita per essere felici è un po' quella roba lì o magari siete costretti, se siete dipendenti, in un lavoro che non è il vostro e avreste voglia di cambiare perché nel posto dove siete non vi sentite valutati nel giusto modo, ok? A livello economico a livello economico non vedo grossi ingressi e sinceramente anche perché la ruota della fortuna è girata al contrario quindi non non parliamo di vincite non parliamo di aiuti purtroppo per adesso non vedo promozioni ma sapete perché? perché, ripeto, siete una barca in valia del vento puntate un obiettivo capite che cosa sia che siate disoccupati occupati o autonomi puntate un obiettivo se siete occupati, per esempio e non lo so fate un lavoro che magari non è proprio così creativo magari è un lavoro ripetitivo cercate quello che è un po' diciamo la parte divertente lo stesso fatelo come un esercizio come un gioco, no? all'interno di questo lavoro cercate di aver pazienza come vi dico per certi versi non avete concorrenza cioè è un po' come se foste unici come se il vostro progetto fosse unico ok? però non aspettatevi l'aiuto dagli altri fatelo voi questo sperimentare andate voi in giro a cercare cose nuove a provare cose nuove da poter proporre sì, c'è una sorta di fase un po' di come vi posso dire un po' così un po' desolata se vogliamo diciamo all'inizio della primavera poi però c'è la necessità di lavorare su quello che è la vostra fiducia su quello che è il vostro lato intuitivo perché qui sento che ci sono dei dubbi che non vengono superati ci sono delle cose da soppesare con quello che mi dice la giustizia al contrario per qualcuno potrebbe anche fare riferimento al fatto che ci sono delle cose nascoste perché sia la giustizia che la società mi parlano anche di qualche cosa che potrebbe essere nascosto quindi occhio a chi riponete fiducia bene allora voglio andare a vedere adesso un messaggio più specifico per ogni singola categoria quindi un messaggio per i disoccupati uno per gli occupati e un altro messaggio per gli autonomi ok la prima carta per i disoccupati uscita perfetto wow regina di coppe asso di denari e il mago il mago ce l'avevate anche qui eh quindi per voi sono bellissime carte la regina di coppe potrebbe farmi pensare al fatto che c'è un qualche tipo di persona o un'energia o un capo comunque che vi dà una mano avete un asso di denari quindi ossia ossia asso di denari è il mago che è il numero uno quindi vedo che arriverà presto un nuovo lavoro per voi una nuova possibilità ricordatevi che l'asso di denari ce l'avevate anche qua era la carta della pienezza ma qui ce l'avete girato dritto quindi una nuova strada una nuova via un nuovo percorso la possibilità vedo che è entrata in azione bravi state sereni che il lavoro arriverà insomma per gli occupati abbiamo un fante di denari ok è partita una carta adesso la raccolgo un sette di bastoni e un 4 di pentacoli quello che sento qui è di tenervi stretto quello che è il vostro progetto ok perché abbiamo il 4 di pentacoli il 4 di pentacoli può parlare di quello che è una sorta di o attaccamento o proprio il tenersi stretto in qualche cosa e con questo sette di bastoni che mi parla di energie insomma da cui vi dovete difendere quello che sento che le carte vi dicono rimanete focalizzati su quello che è l'obiettivo su quello che è il vostro pentacolo cercate di concretizzare un po' di più quello che è l'idea se vogliamo che volete dare al lavoro la linea insomma difendetevi dalle energie esterne state zitti non dite niente andate avanti per la vostra strada ok quindi questo è il consiglio per i disoccupati per gli occupati scusate andiamo a vedere per gli autonomi per gli autonomi abbiamo wow un carro è la morte fantastico per gli autonomi si tratta di cambiare magari per qualcuno prodotto ma per qualcun altro magari strategie di mercato per qualcun altro si tratta di cambiare i macchinari o magari proprio di trasferire quello che è l'azienda completa per qualcuno potrebbe parlare di spostare l'azienda all'estero ok però comunque c'è un cambio c'è un forte cambio dopo che si è fatto una determinata scelta quindi sono due arcani maggiori quindi sono carte molto forti molto belle bene ancora un messaggio da parte di questo mazzo di oracoli che a me piace tanto andiamo a vedere un ultimo consiglio per gli amici dei pesci wow ok allora il primo messaggio dice come vi posso dire l'alchimia l'alchimia interiore l'alchimia interiore è attivata quando tu reagisci alla paura con amore quindi quando qui ci sono questi sentimenti così di diavolo di chiamata spirituale i momenti di torre la morte non ce l'avevate ok sento che quello che dovete fare è reagire alla paura con l'amore ricordatevi che la paura che è una delle energie che esprime anche il diavolo è un'energia che contrae l'amore è un'energia che espande il secondo messaggio è magnificenza sei fantastico sei divertente magnificente e unico ma la cosa più importante è che sei abbastanza quindi sei abbastanza per te stesso per te stessa non devi cercare di confrontarti o di gareggiare con altri insomma per arrivare ad altri livelli che non dico livelli più alti più altri livelli ok bene cari amici dei pesci questo è quello che ho per voi io spero che la lettura in qualche modo vi possa essere utile potete mettere un like al video iscrivervi al canale oppure condividere io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao